Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani capitolo 10 verso 9. È necessario confessare con la bocca. L'ho fatto, ho dichiarato apertamente la mia fede in Gesù quale Salvatore risuscitato dai morti e l'ho fatto nel modo stabilito da Dio. Devo rispondere onestamente a questa domanda. È necessario anche credere col cuore. Credo sinceramente nel Signore risorto, confido in Lui come unica speranza di salvezza. Questa fiducia viene dal mio cuore. Devo rispondere come dinanzi a Dio. Se posso affermare onestamente di aver confessato Cristo e di aver creduto in Lui, allora sono salvato. Il testo non dice che potrei esserlo, ma afferma in modo lampante ed inequivocabile sarai salvato. Avendo creduto e confessato, posso impadronirmi di questa promessa e rivendicarla in questo momento durante tutta la mia vita, nell'ora della morte e nel giorno del giudizio. Sono salvato dalla colpa del peccato, dalla potenza del peccato, dalla punizione del peccato e in definitiva dall'essenza stessa del peccato. Dio lo ha detto, sarai salvato, lo credo, sono salvato. Sia gloria al Signore in eterno. Sia gloria al Signore in eterno.